L.A. Principessa Diana ha descritto il suo divorzio al principe Carlo come un inferno, secondo un biografo reale. Dopo 15 anni di matrimonio e dopo aver avuto il principe William e il principe Harry, il principe e la principessa del Galles hanno divorziato nel 1996. Diana ha detto a Martin Bashir della BBC che c'erano tre di noi nel suo sfortunato matrimonio con Charles, ma un reale l'esperto ha detto che la defunta reale ha lottato per separarsi dal marito. Ingrid Seward ha condiviso in un articolo Diana si sentiva in pericolo dopo il divorzio da Charles. Nel 1997, il biografo è stato invitato dalla principessa per una chiacchierata da ragazze in cui Diana ha condiviso, il divorzio è stato un inferno. Ero a pezzi. Non mi sentivo al sicuro da nessuna parte. So che sembra sciocco ora, ma mi preoccupavo davvero per i freni della mia macchina. Scrivendo su Tessan di Domenica, la signora Seward ha detto che la principessa si è spenta in una risatina dopo aver fatto il commento inquietante. Il biografo ha poi affermato. Diana. Ha anche pensato che il principe Carlo la volesse fuori dai piedi e aveva scritto una nota dicendo altrettanto e ha persino suggerito che Camilla fosse un'esca e voleva la via libera per sposare la tata dei loro figli Tiggy-Legge-Burck. Punto punto. Ma ora, un anno dopo, sapeva che tutte le sue paure sembravano sciocche ed era piena di vita e vivace, positiva e a suo agio. Per natura, era una persona incredibilmente insicura. Era uno dei suoi problemi più grandi. Non avrebbe mai superato l'abitudine di abbassare gli occhi quando parlava con la sua voce argente ad a bambina, ma sembrava più a suo agio con se stessa. La signora Seward ha anche scritto che Diana era triste che il suo matrimonio non fosse andato a buon fine. E ha detto che la principessa ha insistito sul fatto che Charles mi amava assolutamente. La principessa credeva che se lei e Charles si fossero incontrati in momenti diversi avrebbero conquistato il mondo. E ha aggiunto, mi ha amato quando ci siamo sposati e io l'ho amato. Ci amiamo ancora adesso, in un modo diverso. Almeno io lo amo, lui è una bella persona. È incredibilmente triste per il nostro matrimonio. Ma la principessa ha anche detto, erano le persone intorno a noi. Non ci hanno dato una possibilità. Charles è circondato dalle persone sbagliate che danno i consigli sbagliati ed è molto insoddisfatto e non fa davvero abbastanza.